Di nuovo in diretta, purtroppo si era spenta la telecamera Porco cazzo, si era spenta la telecamera, però siamo di nuovo in diretta E stavamo dicendo che siamo campioni, campioni, ole ole ole, ole ole, ole ole, ole ole, ole ole Sventoliamo alto il tricolore italiano Perché è questo quello che dobbiamo fare, sventolare alto il tricolore Perché è questo quello che ci meritiamo, di essere dei campioni Dicevamo che ieri, dopo un primo momento in cui c'è stato un attimo Un po' di defaianza della difesa che si è persa di Lorenzo Che non ha fatto una bellissima partita Si è perso il giocatore, si è perso Shaw E Shaw è andato a segnarla subito dopo due minuti Partita tutta in salita, che però l'Italia ha meritato di vincere Ha la grandissima ha meritato di vincere Ma di che stiamo a parlare, ma di che stiamo a parlare Meritato di vincere proprio Oh mio Dio Tutta un'altra cosa era Proprio l'Inghilterra non si è nemmeno vista Non si sa quello che cazzo Sterling è il miglior tuffatore della storia dei tuffatori My God, my God E ieri quindi siamo andati a festeggiare Perché siamo campioni E oggi festeggeremo con LOL E ricominciando a streamare Visto che venerdì non ho streamato Perché ero distrutto Io ci ho dato un esame E sto facendo un report per questo esame E venerdì sono stato nove ore Sul computer Non ce la facevo più Quindi ho detto Guarda, una sera non streamo Perché non mi va Se no deve essere Se deve essere una cosa Perde più o meglio non farla Qui continuiamo ad aspettare Due spettatori Ciao a tutti e due Spero voi siate italiani Oh sì, sentite la mia live E possiamo festeggiare insieme Se siete inglesi Ai 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 Allora ragazzi Ma di che parliamo? Di quel Di quel Quello lì che si era dato Ado la vittoria Quello era proprio un coionazzo Ragazzi Un coionazzo Di dimensioni assurde Che cazzo Di coionazzo Dopo ne parleremo Alla fine Ora facciamo qualche partitina Avete visto il nuovo Champion? Troppo forte Troppo bello Nel frattempo qui Offeriamo una chiave Tanto ci serve C'è uno solo 29 De chiave Oh E finalmente Si arriva A giocare Speriamo bene Ok Sono l'ultimo Sono l'ultimo Vediamo Vediamo Andiamo a giocare Sempre Yorick Let's go Andiamo a bannare Urgot Non mi piace Urgot Contro Perché Praticamente Ma perché Darius Perché Darius Senza Senso Sto Bannare Darius Non gioia Al consenso Il bannare Darius Però Va bene Ma Mastery Kindred Samira Yume Boh Non lo so Dove 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 Sto a vedere Che non lo vedo Allora Xerath Twitch Jax 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 Potrebbe essere Il top laner I don't know I don't know I don't know Non lo sacco Non lo sacco Se Jax è il top laner Quello che so è che abbiamo vinto ieri Io vinceremo anche oggi Dai dai Dobbiamo vincere anche oggi Eh non lo so Boh Io prendo Yorick Forse Talon Ziggs Twitch Come funziona Talon è Io non l'ho capito Giocano con doppia di carry Potrebbero giocare con doppia di carry Potrebbero giocare con doppia di carry Vediamo Nocturne top Vabbè Teniamo così Adesso questo ce l'abbiamo Perché mi fa un po' fastidio Nocturne top Twitch Jax Andiamo a giocare Tenagia Molto meglio Ok And let's go Ci prepariamo alla battaglia Siamo pronti Siamo pronti Uno spettatore Pochissimi spettatori Non fa niente Piano piano arriveranno Speriamo Allora gioca Jax Jax Giocano Cazzo Nocturne Talon mid Ziggs e Twitch Sotto Wow Argento Cioè praticamente Mi vogliono Mi vogliono far perdere Ho capito Mi ho messo con tutti Silver Let's start Allora cominciamo con la lama di Doran Andiamo qua Stanco Antico E mezzo morto Ma ti verrò a prendere Dentro What random runes Chi è che l'ha scritto Lilia Vabbè dai Let's go Non male Non male Vabbè Basta 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 Let's go Very good Very good Very good Bene bene Allora andiamo Flash Atenti Aia State attenti Questo costante Lamento Delle anime Tormentate Vai Vai Not bad Basta 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 Se mi avete qualche botta da me Non c'è problema Non c'è problema Non c'è problema So che sei più forte di me In Henry Che in me Non c'è problema Almeno a quanto ti pare Oh my god Oh my god Oh my god Va bene Va bene Due pari Stiamo Siamo fortunati che ci abbiamo Se lui mi salta Se lui mi salta addosso Appena c'è il livello 3 Mi metto attorno alla cosa Lo possiamo continuare Benissimo Il lutto Per voi Farmo così Non c'è alcun problema Bene Va bene Va bene Un nemico è stato ucciso Quindi va molto bene Sto cosa Ok No Oddio Not like this Please Ok Va bene Lui si è andato Non so dove è andato Diamo l'S S Che cosa sarà una tomba in più I don't know where are you Bene Che salve No Continuiamo a pushare Non so dove è andato Il signorino Sperando Che non sia FK Se no Sai che palle A ver Nel frattempo Come si Usare a la grande Mi gusta la tranquillità del mondo Buono Alla Eh Non lo capito Sto cosa Non so dove sta Che cosa sarà una tomba in più Devi morire Siamo di fuori Prenderemo tutto Tutti Siamo di fuori Guarda la vergine Viene per te Questa orda Consuma tutto Basta 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 Ora non lo possiamo Continuare Alla Nella terra Torneranno Ma dov'è stare Chucks? Mi sa che è AFK Vabbè meglio così Ci prendiamo sta torre subito Dopo 6 minuti E' una torre distrutta Fa molto rischio Ok basta Ora facciamo B 56 Ci abbiamo quasi subito questo Andiamo a prenderci le queste qua Vedete un attimo Nocturne Town Queste e queste Poi ci prendiamo 7 di oggetti Questo Questo E andiamo Let's go Let's go Very good This is very very good Wow Per ora stiamo andando Molto bene Molto bene E vai Cazzo Vediamo qua C'è sempre un solo spettatore Cosa c'è di peggio di questo limbo L'unica cosa è Sto Sto twitch Che sta a 5-2 Perché non è poco Vai 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 Fallo fuori Fallo fuori Buono Buono così Vai 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 Colpisce Dovano Mettendo qui Ok 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 Basta Basta Vieni qua Sto arrivando Sto arrivando Non so Che cosa ci sia Nell'antila Ma sicuramente Sarà meglio Di questo Ok Prendiamo C'è questo Ha riportato Una pietra Miliare E bravo Xerath Bravo Xerath Andiamo a creare Superiorità Qua Bene 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 Ah Basta 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 Buongiorno 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 Che stupidi Si vai Pushiamo Fuori Nemica Un terribile Tocco Ok Basta 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 Passiamo più tempo da morti Uh very good Very very good This is very very good 11 minuti e sono in base Wow Così completamente a caso Ho molto rito sta cosa Un farmi del mare Eh Eh che lo faccio bene Una maledizione sulla terra No ma mazzola la cosa Non mi piace questa cosa Wow wow Dominazione Wow wow Very good Porco Dingy per pochissimo C'avevo quell'altra Mamma mia guarda Se c'avevo questa Oh anche solo Porca Guarda per pochissimo Sta cosa Ho fatto un po' ride Allora Prendiamo il spacca scafo Tanto Mi direi di andare il spacca scafo subito Anzi forse direi di farlo anche così Nulla Il trauma della rinascca GG Vittoria Grande vittoria Ciao Luca Come va Tutto bene Tutto bene Io tutto a posto Tu tutto a posto Fa anche un pochino meno caldo Quindi stiamo anche un pochino meglio La prima partita l'ho vinta Così Perché vabbè Perché c'è stata una FK Non so per quale motivo Complete lì a caso Una FK Che adesso verrà Ehi Ciao Ciao Francesco Tutto a posto? Allora Partita abandonata FK Allora Mi chiedono di giocare Possibile rinunirsi La cosa Ok Mindforest Ti ho abbandonata Una segnalazione Sto davanti a Denisa If you want I'm streaming Di Adam Diego Possibile rinunirsi la coda? Ok Ok ragazzi Che tutto a posto Ho fatto un esame oggi Ho preso 30 Grande Grandissimo Luca Fuochi in chat Per Luca Considerate C'è solo tu Luca Fatti i fuochi Tu e Francesco Fatevi Fate i fuochi In chat Per voi due E basta E let's go Trovo la partita di nuovo Vediamo Se c'è qualcun altro Allora 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 Andiamo a vedere Andiamo a vedere L'hai vista ieri la partita Luca? Abbiamo vinto Siamo campioni d'Europa E viva E viva E viva E viva E viva Campioni d'Europa E viva Francesco Tu l'hai vista ieri la partita? Mi do fuoco da solo Bella mio fuoco da solo Bene Bene Bravo Bravo Fuocati da solo Bravissimo Mamma mia C'è a dire che Oggi non è troppo caldo Non si muove nemmeno tanta aria Quindi stai qui Abbiamo visto insieme E viva E viva Poi avete visto anche un film So allora Eh Come si chiama questo film? Diteci 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 Ragazzi Diteci Diteci E come sempre Non vedo nulla Per una connessione pazzesca E viva E viva E viva E viva la connessione Di Francesco Vabbè dai Fra Non ti preoccupare Non c'è niente da vedere Per ora Sto solo aspettando la partita L'ultima partita L'ho vinta L'uomo che compro la luna Consigliatissimo E' stato un trip E' stato un trip Adesso me lo vado un attimo a cercare Che è sto uomo che compro la luna Uomo che compro la luna Vediamo Ah ma è italiano E' sardo E' sardo Sembra carino Sembra carino questo film Ma è tipo Una commedia Cioè nel senso faride Destramento E' un grattesco salve finale Ah forte Carino Ma dove stava? Twitch che simpatia La simpatia di Twitch Non ha Non ha E' un grattesco salve La magica simpatia di Twitch Che non fa cambiare Assolutamente La cosa Nella merda eh Nella merda Twitch Grazie Grazie Così ti voglio Complimenti Allora nel frattempo Che aspettiamo Vado a cancello Uh Evviva Ci siamo subito E vai E si gioca Ah era in prima visione Su Ray 3 Ah ok Ok Niente non si gioca Ho detto una cazzata E attenzione Forse si ricioca E vai E vai Si gioca Vediamo un po' Andiamo a prendere sempre Iorik Allora io La partita La prima l'ho fatta Buona Ora vediamo Quello che Ci chiedono Dalla regia Allora andiamo A bannare Urgot Vediamo Quello che Decidono loro Vero C'era Pannofino Grandissimo Pannofino Che ricordiamo Per Boris Ricordiamo per aver dato la voce A Tipo Un milione Di robe Comunque Molto Molto bello Questo Questo Allora lo vedrò Vediamo Uh E vai Hanno vannato Irelia Meglio è così Meno Diciamo Non c'ho I Coloro che Diciamo Mi danno più fastidio Che sono Urgot E Irelia Andiamo a prendere Iorik Ne vediamo Il problema sarà anche Trinna Ma il resto vediamo Vediamo Perché dovrei vederlo adesso Quello che prendi Vukong 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 E' cattivo Vukong Molto Ti lancio per aria Bella merda Morgana Katarina Vukong 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 Fa danni fisici O danni magici La domanda Andiamo a vederlo Miss Fortune Miss Fortune Xinzhao Katarina Morgana Andiamo a gioco così Dai Allora Miss Fortune Xinzhao Vukong Vukong Morgana Loro sono molto Cattivi Molto Vukong Fa danni fisici O magici Secondo voi Via le scommesse Quella scimmietta Quella scimmietta Vukong Fa danni fisici O magici Ragazzi Fa danni Magici Fisici Ho sbagliato Fisici E quindi niente Va bene così Francesco SSS Come sempre Sicuramente Sei sempre smentito SSS Ok Abbiamo Amummo Tra le nostre fila Un Vukong Che sembra forte Il problema Sono Gli altri due Qua sotto Che sono forti Ma vediamo Quello che viene fuori Mica succede niente Andiamo a vedere Come giocare Questo Yorick Let's go Allora Contro Vukong Devo stare attento Perché lui sparisce Quindi è una rottura De cazzo Non so però Se io gli faccio Il marchio E lui sparisce Vengono marchiati Tutti e due O solo Boh Non lo so Eh Non so come funziona Il marchio Di Yorick Su Vukong Sinceramente Non lo so Non lo so Come funziona Vedremo Fra Questa è una scimmia Con un bastone Chi ti ricorda Perché devi sapere Che i personaggi Dei League of Legends Tantissimi ricordano Altre Altre cose Bravissimo Bravissimo Goku Esatto Secondo me È una scimmia Che fa arti marziali Con un bastone Secondo me È È Straripresa Da Goku Ma l'hanno detto Anche loro Abbiamo preso Da Personaggi Che andavano De moda In quel periodo Tipo questo qui Che è Un uomo Tutto vestito De fuoco Che fa fuoco Potrebbe essere Quella Della Suicide Squad Questo è Questo è Palesimento Xina Vedremo Vedremo Xina Principessa Guarriera Guarriera Allora Andiamo Cominciamo Subito Zack Zack Frick Frick E vediamo Quello che succede Abbiamo Wukong Contro di noi Noi lavoreremo Sul sustain E vediamo Quello che succede Cerchiamo Di farci Pushare All'inizio Di farmare Per bene Come abbiamo Fatto L'ultima volta Ma Non sarà La stessa cosa Perché Uuuuh E to visto To li visto To li visto Va bene Va bene Ho voluto Una bottarella Sono qui Per seppellirti Adesso La do pure Io E Todata Todata La bottarella Todata Ehi Ehi Stai calmino Ehi Stai molto Calmino Questo trade Stavo positivo Nei suoi confronti Ma nemmeno Troppo Ne stiamo Messi male 9 a 4 Va benissimo Benissimo Siamo Anche Molto Pushato Quindi Meglio E così Un pochino Persi Va bene Lo stesso Ah Ahia Questa era una bella volta Capiato lui Ma ecco Ecco Sta roba Proprio Me la sono Me la fa Un pastidio Ah Vai 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 Niente da fare Ok Abbiamo preso Un flash Quindi male Non fa Per nulla Abbiamo preso Un flash Non mi ci sono avvicinato Perché secondo me Ehi La tomba Ti attende Ah si Mi ricordo di lui Ahia Oh Che cazzo Stavo per morire Oh Aiuto Please Non morire Eh no Diego Però Così Uh Very good Very good Questo Vuole ammazzarmi A me E ammazzare E è morto Lui Si impara Lo stronzone L'unico problema E' che io Adesso sto a fare Un po' Cacà Però non fa niente Ho farmato Ma Ecco Continuo a farmare Male Per te Giunta l'ora Del rituale Vedo adesso Sicuramente Se starà A morte Esatto Ah ok Va bene Ritorniamo indietro E va bene E così Andiamo a prenderci Queste Questo Questo Let's go And let's go Vediamo quello che viene fuori Allora lui si è preso Ok Una lama incantata 25 e 33 Non stiamo messi male Ora Continueremo così La nostra farm è un po' inferiore Però guardate che wave che c'ho Ancora da Da butta giù La vita Lui sta a livello 5 Guarda guarda Mi veniva pure Porca troia Non ci posso credere Ok basta 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 Ho fatto pure troppo male Importante adesso Sta qui Tranquilli Non serve nemmeno Che l'attacco Uno Due Tre Ah Bravi Le isole Ricordano Ok Ma che ne già fa un po' male Sto ragazzo Però piano piano Adesso recupero Dai 41 36 Non so dov'è Non ti maledirò Ti ucciderò Eccoci Eccoci Bene 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 Fa lo svelto Fa This is very good E lui non c'ha nemmeno Il coso Quindi adesso Gli butto giù Un bel po' Di torre Alla grandissima E perde anche Un bel po' Di minion Bene bene Questa è stata Una bellissima Una bellissima cosa Due Boom Bene bene Benissimo Benissimo This was So good So good So good C'è una C'è una mosca Che adesso Ammazzerò In diretta Live Porca Oh Leva da mosca Allora Ci prendiamo Questo And let's go Bene La cosa Non è proprio Messa benissimo Però Va bene Lo stesso La Come si dice La wave Non è messa Benissimo Fai attenzione Amica Dicevano Che queste isole Fossero Immortali Eppure Moreranno Bene 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 Lui ne ha presa Una Una placca La colpa è stata Un po' La mia Ok And let's go Ora che ne prendo Anche un'altra Probabilmente Dovrei Siamo Ritornati Indietro Basta 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 Oh Cazzo Ok Go back Go back Go back Eh lo so Purtroppo Lei è morta Ma non fa niente L'importante è che Mi sono salvato io Non cerco un problema Le 150 secondi Ce la riavrò Loro hanno perso anche il drago Quindi molto Molto buona Come cosa Andiamo indietro Ok Omicidio di mosca Indiretto Eccola Cioè l'ho chiappato E non è morto Penso quanto cazzo Io ho dobbiamo Wow Che bella Che bella wave Che stai pushando Fratello Che bella wave C'è 10 milioni in più di me Ma Non è un problema Questo Per il semplice Il fatto che adesso Io li riprenderò tutti Bene Questo Questo Ah 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 L'errore Ah 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 Va bene Non so dov'è Ah Eccolo lì Possiamo andiamo Allora se volete Non vivo nella speranza Lavoro per la terra Arriving I'm arriving My friend Let's go Let's go Boom 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 Wow ragazzi Wow Very good This was very very good Adesso qui ce lo facciamo fuori anche la torre Gli ultimi Vai 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 Boom La squadra ha distrutto la prima torre Che ero Io ho distrutto la prima torre Stiamo andando molto bene Molto bene Very very good Andiamo con questo Va bene La mia torre La sua 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 torre Possiamo anche ritornare indietro 5 1 5 0 1 0 3 Non stiamo andando male Non stiamo andando per niente male Le lacrime di vita mi proteggono Let's continue Attenzione che io non lo vedo più questo Ah eccolo Anch'io Non c'è senso Arriva lì Le nostre anime sono il piccolo prezzo da pagare per purificare questa terra Va bene Allora lui sta 10 milioni in più da meno Ho preso 500 punti Non so dove è andato Allora no Where is he Basta se lì dentro Sembra che teletrasportata Ahia Uh very good Ah Ahia Ok andiamocene Cazzo Va bene va bene Quasi Quasi fratello Quasi E non andro a volta Rispetto per i morti Per te è giunta l'ora del rituale Una maledizione Una maledizione sulla terra Siamo più fuori Prenderemo tutto Non così Non così Ho sbagliato Oh very good Aia Sorry Allora Allora l'ho sconfitto solo perché ho avuto dei crediti più intestosi Se vuoi Poverla forse mille Ah ma qui stavate parlando E io non mi stavo senti per niente Perché stavo 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 Giocando In perterrito Cosa avete detto Giornale mi è entrato in calabrono in cani Con scritto Lo siete con la racchetta E fra ora che adesso stai Questi insetti sono sempre più cattivi Bisogna inventarsi dei metodi nuovi Tipo il lanciafiamme Quasi del genere Cavolo cavolo Xinzao Morgana Katarina Laggiù Quindi io qui posso push alla grande Non ci sono elogi Yes yes Tranquilla Vai Andate e prendete tutto ciò che volete Ricordare è doloroso Ciao Questo non finirà mai Aiuto Il nostro destino Non angosciarti Ah Ah Wow Guppi Brand Io invece ho sbagliato Io invece purtroppo ho sbagliato Purtroppo Stavo fatto un errore da parte mia Ma non succede niente Perché mi riprenderò E diventerò più forte di prima Perché così fanno i veri campioni Non importa Le volte in cui ti butti giù Ma importa le volte Ora non è ancora giunta Che ti rialzi No Per te è giunta l'ora del rituale Disseminate i loro resti Aia Oh raga Ma che stiamo facendo Ce l'avevamo in mano la partita Oh ma che è Che stiamo facendo Eh They are coming back Che stiamo facendo Che stiamo ucciso Let me kill her Ok Why why Ok Ok Let's play together perchè altrimenti qui verso la tomba che andiamo per te è giunta l'ora del rituale l'acqua per i vivi fosse per i morti la tua torre è stata distraccata ricordatevi del mio nome perchè un giorno lo dimenticherò no a mummu pure ci vuole che sta fermo la tomba è la tua dimora ier facciamo così perchè così tanto inutile piangere i morti non ti sentono devo scavare ma perchè c'ho un lag enorme in questa maniera perchè? ditemelo che prego ditemi il perchè che c'è ma che cazzo fai? ma mi spieghi che cazzo fai tu qui? ma che cazzo sto a fare? ma che senso giochiano dimmi che senso giochiano dimmi che senso giochiano ora c'è ora c'è da fare tutti eh ahhh non è morto non è morto oh guarda guarda che la perdiamo eh guarda che la perdiamo la perdiamo la perdiamo sicuro porca puttana guarda che cazzo fai qui? che cazzo fai? cogliona porco d'inci già senso l'aldilà non si regala si guadagna no eh ancora non c'è stata insieme vabbè sempre 3 contro 5 vabbè vabbè vai vai push 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 niente non volete push mamma mia ragazzi come si fa? vabbò 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 la nebbia mi trascinerebbe via non siamo con lui siamo con me andate e prendete tutto ciò che volete guarda che cosa hai fatto dovevo porto queste anime verso il loro destino qualunque esso sia io te ne vabbè 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 Oh my fucking god amuno Dove vai? Dove vai? Dove vai? Non morite per favore, non morite Lo richiedo per favore, non morite Ecco, devi morire questa bevice No Quasi Qua 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 usciamo Ma per carità questo non capisce un carico ma per carità, ma per carità ma che cazzo dei segnali me fai? e me non è già senso uso la maledizione per distruggerla senza senso un fight senza senso va bene puoi pensare che io mi no ma non mi rompe tanto il cazzo va no senza tu non ho senso abbiamo preso una torre però continuiamo a combattere tanto che problema c'è chi se ne prega no basta 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 vai continuiamo a push vabbè continuiamo a push no solo io e le recons mi raccomando uccidete e assumete la sua forma ma che cazzo state a fa' la mia maledizione è la nostra unica speranza no ma che fate? ma perchè? continuiamo a push continuiamo a push basta 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 go back back eh lo vedi? se vi resta la è morta perfetto guarda si vediamo ieri che cosa sarà una tomba intima basta 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 dove vai? ma perchè? perchè dio buono? ma perchè? invocherebbero la morte non ci vuole niente per passare da benedetti a dannati guarda la vergine viene per te va bene eh there is a problem ma se volete continuatemi per te è giunta l'ora dell'ora oh dovete devo scavare e poi yalò sono il primo e ultimo della specie dai falla fuori dai falla fuori dai falla fuori dai falla fuori ti è buono bene 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 così ora ho bisogno di 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 qualcosa di qualcosa di qualcosa che mi da tipo questo questo va bene vai si può restare a lungo si può restare a lungo a fissare la morte non morisce te prego no non morisce te scongiuro non morisce ok morgana top così a caso così a caso vai non c'è problema non c'è problema non c'è problema vai let's go let's go oh vai finiamo sta cazzo di partita morta vi ringrazio per l'aiuto vi ringrazio per l'aiuto andiamo a andiamo a botto giù si 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 assolutamente basta 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 non serve nemmeno basta 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 pure troppo quello che va fatto anche se è orribile no basta 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 aspettiamoli aspettiamoli che fa la cosa che c'ha ah ma lei c'ha potere magico adesso mi faccio un po' di anima mi faccio questo si 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 mi faccio questo dobbiamo iniziare a mangiarci no sto sempre lì uguale allora mi farò questo aspetta mi vendo anche questa e mi faccio quest'altra sono venuti dalla terra intanto il problema principale è cata no ma perchè why 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 guarda e se perdiamo adesso abbiamo finito eh abbiamo perso vedete voi che cosa c'è di peggio di questo lo so amico lo so amico ma lasciamoci usciamo un pochino arrivo 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 ah ah ehi 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 ah 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 ehi ecco Let's finish this fucking game, let's finish this fucking game Ehi, ma che è? Aia, aia, uuuu Boom Aia, aia Via Basta, basta Basta, non moriamo Questo non ci aveva senso Ehi No, 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 via, via Bec, bec, bec Porco dinci, porco Questa è stata una bella merda Porca puttana, porca Va bene comunque, dai, dai, non stiamo messi male Questo che fa? C'è un... Io andrei di questo adesso Si, andrei di questo, vai Qual è l'inibitore nemico sta per rigenerarsi? Dobbiamo finirlo ora No Group Mid Dov'è, dov'è? Che cazzo fa? Guarda questa Il tempo le isolerono un luogo paradisiaco Ora sono una prigione Tutti si uniranno a noi Guarda la vergine Viene per te Carme che presto finirà a terra Eccce Si place Si alzano Si alzano Combattono Marciscono No 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 Devo scavare Non No Cosa? Cosa? another no sense fight, good, very good, very good facciamoci questo e poi facciamo questa qua e poi basta anzi adesso però facciamo questo, ferro e andiamo ma si, ma si, continuiamo a dargli le uccisioni porco dingy, porco guarda ma come cazzo si fa, ma come si fa ma come cazzo si fa prendete tutto ciò che volete per i piru la vita è breve, per me è interminabile dove vai, dove vuoi andare, dove, ma secondo me tante volte le persone sono proprio eeeh che cosa sarà una tomba in più per te è giunta l'ora del rituale no sense no sense, no sense, continuiamo con il no sense battle eh sta andando bene, mica troppo, non troppo però nel senso che secondo me potevamo vincere già da un pezzo ma ma questi fanno, cioè, questi sono proprio amanti de della cosa di dele questi vogliono assolutamente per forza fa fai fight, fight, fight su fight, fight su fight e qui noi continuiamo a perdere ma per carità, ma per carità no sense gwenny is totally no sense via 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 ma che cazzo fai mamma mia ragazzi, ma come se fa vabbè lasciamo stare e rovina tornerà per incontrare le vittime del suo incantesimo you guys are totally no sense proprio completamente senza senso senza senso proprio completamente completamente la vita che sogno meraviglioso senti quanto cazzo leva dove vai? dove vai? dove vai? dove vai? cogliona, dove vai? guarda, guarda ma per carità, ma per carità perfetto l'abbiamo perso complimenti va bene, va bene, va bene no no total no sense total guarda, guarda, guarda quella guarda quella dai cazzo dai cazzo pushiamo queste cazzole torri pushiamo tutto pushiamo pushiamo tutto pushiamo pushiamo tutto ci penso io guarda guarda prendo prendo è proprio completamente no sense completamente non c'ha senso quello che sta facendo completamente completamente ma che cazzo vuoi? ripara il tuo epitaffio si vabbè continuano ad essere ma per carità ma per carità ma per carità alla ricerca di un luogo in cui insediarsi ma per carità ma per carità ecco man you no sense totally totally carry you only want kill not strategy strategy you are no sense ar no sense ar ala Abbiamo perso Porca droga Abbiamo perso Abbiamo perso per una cacata Di cosa Per una cacata di persona Abbiamo perso porca droga Per una cazzo di cacata di persona Che ha fatto schifo Ha fatto veramente cacare Non so a chi dalla Non so a chi dalla Non so a chi dalla Non so proprio a chi dalla Guarda No sense fight LoL is a strategy game Please learn And then play Veri veri Meglio Proprio una cacata Una cacata Una cazzo di cacata Guarda là Guarda là ho fatto più danni e la di Kerry Ma di che parliamo Ma di che stiamo a parlare Not About Your team Team So Don't I'm talking to my team Buona giornata Luca Buona giornata Bella merda Porca droga Bella merda Mamma mia ragazzi Vabbè Una vinta Una persa Stiamo a 50PL Non male Non male Non male Ma queste sono Cose che non mi piacciono Perché Sinceramente Potevamo stravincere Anche questa E non l'abbiamo vinta Perché Perché le persone Sono troppo impegnate A cercare Di Giocare Sempre Unicamente Con Con le kill Le kill Kill su kill Kill su kill Che poi guarda Ho fatto 13 kill Io Quindi ti dico tutto Siamo messi bene Vabbè dai Vabbè Detto questo Ora io direi di fare Un po' di scacchi Un po' di cesso Fra Vuoi venire a fare cesso Con me? Eh? Fra Raccontami Vuoi venire a fare cesso Con me? Dimmi tu Dimmi fra Dimmi bene Fra Io ci sono se vuoi Yes Bene bene Allora andiamo su Skype Andiamo su Skype Andiamo su Skype Andiamo a prendere Francesco Conoscendo la notifica Allora impostazioni Un attimino solo Amici Che sto un attimo Vedendo se è tutto a posto No non è tutto a posto Andiamo da Francesco Facciamo una bella video Facciamo una bella videochiamas Ok Allora Andiamo su scacchi Eccolo Francesco Come fra? Va bene Va bene va bene Non ti preoccupare Allora aspetta che levo Aspetta che levo L'NT Ecco Interrompi L'utilizzo Perfetto Perfetto Eh tranquillo Eh infatti ti sento un po' A tratti Fra Vabbè va bene Non ti preoccupare Ok ok Adesso io provo A condividere lo schermo Se vedi che non ci riesci Non ti preoccupare Ok Fra Ci sei? Sì sì ci sto Ok ok Perfetto Sì 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 Ok Schermo condiviso Lo vedi? Facciamo una transizione Perfetto Schermo condiviso E andiamo a giocare A scacchi Aspetta ho scritto Che giochiamo a scacchi Sì giochiamo a scacchi Ho scritto L'ho scritto Allora Gioca Nuova partita Eh? Il titolo Un po' di cesso Un po' di volta No un po' di cesso Ho scritto Ah Aggiorna Un po' Da me è meglio Scrive un po' di cesso Dovrei aver aggiornato Ah Vabbè Aspetta Aggiorna Vedi un po' se ti si vede adesso Eh no Vabbè 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 Comunque io ce l'ho scritto Un po' di cesso Quindi in teoria Sì sotto comunque La categoria cessa Ok perfetto Vai Allora direi di cominciare subito Vai Let's go Contro il Belgio Allora Apriamo Dire Sì Come sempre Andiamo ad attaccare Sì Lui si dovrà difende E io adesso Direi quasi quasi di Quasi apro subito con questo Tipo qua Sì 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 Per forza Che dà un po' di fastidio Bene bene Vediamo 809 813 Quindi più o meno Siamo uguali Sì Ok Ok Lui ha fatto la stessa Identica mossa mia Se ci metti il pedone Se io metto il cavallo qua Con l'intenzione Di andarlo a mettere qua E attaccare Sia la regina che il re Sia la regina che il re No Sia la regina che la torre Dici Sia la regina che la torre Sì Ok Lo metti lì Poi lui non me lo può mangiare Con il re Vai Quindi lui dovrà coprire Questo qua Ma come lo copre Ah spostando la regina Magari Ah no Me l'ha proprio mangiata Bella merda che ho fatto Vabbè uguale 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 Non succede niente Andiamo a fare Il Cambio Non succede niente Non succede niente Abbiamo perso un cavallo Ah no Perché adesso No Prima c'era il cavallo Sennò se mettevi il pedone In D4 Poteva essere carina Però Era meglio se c'era il cavallo Andiamo qua Col cavallo Cosa ne pensi A coprire Vai Copriamo Anzi La prossima volta Andiamo su con questo Eh quello che ti dicevo prima Ah me l'avevi detto tu Se c'avevi anche Se c'avevi anche il cavallo Quell'altro Ah vabbè E ormai Perché proteggeva una volta di più Però Ormai Comunque protetto Esatto Ora andiamo su E gli attacchiamo pure Gli attacchiamo questi due E gli attacchiamo la regina Lui deve spostare per forza la regina Ok Certo 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 Sì Va bene Che ti devo dire E se sto attaccando anche questo re qua Quello qua Eh quel cavallo Scusa scusa il cavallo Allora quello che posso fare Attacca qui Attacca qua Però attacca qua non serve Perché ci sta Questo Ok Adesso vediamo perché Se lui sposta questa Vediamo che fa Vediamo che fa Se lui sposta quella Tu potresti No L'ho sbagliato No Vabbè Vediamo Adesso vediamo Ecco Adesso spostavo quella in avanti Allora Ok Allora Che possiamo fare Allora potresti anche Potrei anche Potrei anche Venire giù con questo E andare a attaccare questo cavallo qua Che sta anche nella stessa linea sua Sì Però no Io dicevo la regina perché mettevi in comunicazione le torri intanto Eh sì anche Dove la posso spostare la regina Anche qui Eh stavo Eh io pensavo proprio lì Tanto qui non Però Eh va bene va bene Non gli succede niente Eh non gli succede niente Copre la copre la Vai Mi piace Mi piace Aiuto Quando Guadagni la regina subito C'è una paura di perdere la tua Assurda Si mette l'ansia Si mette l'ansia Un'altra cosa che si potrebbe fare È il cavallo In B5 Cavallo in B5 Si Per andare Può mangiare Può mangiare in C7 Senza minacce Può mangiare in C7 Senza minacce Giustamente Minacciolatore Eccolo Subito Questa però secondo me Stava una mossa a caso sua Che ci ha chiappato Secondo me Stava una mossa a caso Allora questa che Proprio può dare Eh boh Lui ci rimangia Lui già Lì lo Oppure facciamo così Lì ce l'ha coperto due volte Punto qua Butto su questo Cioè faccio Avanzo questo Per far avanzare Avanzare l'altro In B Vai Ci può stare Ci può stare Un'altra cosa che Che dopo che Possiamo valutare Stavo pensando Guarda il cavallo Ok No aspetta Lui non mangiare Se lui non mangiare Io rimangio Ah aspetta però Che mangia l'alfiere in C7 Tanto l'alfiere è bello Che è andato No Tu dicevi Alfiere per alfiere Eh Però aspetta Aspetta un attimo Perché se io gli mangio Questo Lui me mangia E io gli rimangio E lui mi rimangia E io gli rimangio Perdiamo Abbiamo Perdiamo Stiamo avanti De uno noi Non ho capito Allora io gli mangio Col cavallo Gli mangio Il pedone Lui me mangia Col pedone Metti Io gli mangio Con l'alfiere Lui me mangia Col cavallo Io gli mangio Con la regina Ok Quindi noi Guadagniamo 3 più 2 5 Ma perdiamo 6 No Perdiamo 5 Giusto? Non perdiamo Il cavallo Ah Giusto 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 Eh Però St'alfiere È bello Che è andato Ormai Eh Tocca fallo Per forza Infatti D4 C'ha sempre Alfiere Le cose sono O lo metti L'alfiere Lo metti in D5 Te lo mangia col cavallo E poi noi lo rimangiamo Col cavallo E poi forse La posizione potrebbe Essere buona Perché il cavallo Dopo può andare In C7 Minaccia la torre Però Alfiere in D5 Qua Eh Lui ce lo mangia Col cavallo Noi rimangiamo Il cavallo Poi il cavallo Va Può andare È buono Sì dai Mi piace È in una posizione Che può mangiare Il colpedone là Mi piace E adesso Minaccia anche la torre Quindi me lo deve mangiare Per forza Adesso Sì 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 Ok 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 Let's go Let's go Forza Forza Amici Degli spettatori Cavallo Eccolo Andiamo Andiamo a vedere il cavallo Di nuovo Sì Poi questo cavallo Va a minacciare qua Sì Puoi comunque Mettercelo Eh sì Mettercelo Non fa male Minaccio la torre E minaccio questa qua Sì però Lui si sposta la torre Dopo in A7 E finisce lì E minaccio anche questa Volendo Però Quella ha già coperto C'hai ragione C'hai ragione Però possiamo Fa una cosa del genere Tanto te lo mangia Glielo rimangiamo Eh Così deve andare dietro con l'alfiere E gli blocchiamo la torre A quel punto Secondo me C'è un po' di senso Sì Anche Anche E io mangio l'alfiere Sì 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 Lui No Poi noi rimangiamo Con la ricina Esatto Esatto Noi rimangiamo Con la ricina Che struttura strana Che è avvenuta Questi pedoni Sì infatti Tutti accentrati Lì agglomerati Di pedoni È vero È vero Lui c'ha un cavallo in più Rispetto a noi È quello che ci siamo fatti Magna a casa Esatto Bravo Però noi abbiamo la ricina Esatto E lui si è fatto Magna a casa Ok Non l'ho capita Perché ha fatto Sta mossa Boh Allora io andrei Su con questo Sai Perché Perché se me lo mangio Vado su con la torre E coso il cavallo Anche Amminaccio il cavallo Però il cavallo È protettissimo lì Sì il cavallo È protettissimo Ma alla fine Nel senso Se sta lì Non ce ne fregano Nemmeno un cazzo Cioè Dico Dico nel senso Dopo posso andare su Con la torre qua E mangiammi tutti questi Che stanno in fila Però Però Comunque il primo È protetto Doppiamente Quindi Boh Non so Se no Che possiamo fare Se no Puoi mangiare Col pedone tuo Ah Che Anche inizia A essere vicino A Alla Proponzione Dici Esatto Oppure se faccio Questa mossa qua Che lui deve spostare Il cavallo E io vado a mangiare Un pedone Ah Ok Ok O posso fare Anche questa mossa qua C3 Proteggi anche Il Corpedone stesso Esatto Esatto Che era già protetto Però Sì Però nel senso Se dopo Torni indietro Con la regina Perdi Se tu volevi mangiare I pedoni Con la regina Sì sì Dove ti scegli Quale mossa fa Insomma Sì sì In ogni caso Vai io farei così Vai Vai Va bene Vai Adesso lo potrebbe mettere In E6 Così ti minaccia l'alfiere No Lui ha fatto sta mossa E io faccio Quest'altra mossa E beh direi E vado a minacciargli La torre E fai la porchetta Col pedone E la torre E il cavallo Ma il cavallo E questo cavallo qua Eh Il cavallo è protetto Lasciamo Cioè nel senso Non con la regina Con il pedone Ok Vediamo 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 Perché quella regina Che può fare un super danno Che può fare un super danno No Adesso vediamo Che succede Che fa Adesso vediamo Perché se lui sposta la torre A me mi conviene Ok Mangiare il cavallo No Tanto quel pedone Ho già mangiato Eh Mangiamo il cavallo Sì 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 Anche perché lui Trompe la purella No Esatto Esatto Adesso Se ti vuoi mangiare il pedone Esatto Però vabbè Questa Questa Barricata Ok Allora io andrei qua Con la torrina Però Ah con la torrina Ok Eh così almeno Gli minacciamo L'alfiere Ok E ci abbiamo Quei due pedoni Che adesso ci rimangiamo Piano piano Sì Sì vai Mi piace Dopo Prossima mossa Mangiamo il pedone Esatto Bravo E poi Se non sposta E poi mangiamo E poi dobbiamo mangiare Quello in D Che Se vuole venire giù Dà fastidio Ok Ok Ora mangiamo Perfetto Quindi sposti Esatto Se lui va giù Con l'alfiere E poi mangiamo Tranquillamente Tanto la torre L'altra Sta nella posizione Nera Quindi non gli fa niente Sì Se ti tiraci un pedone A minacciare Ecco Ti potrebbe fare Una forchetta In F Col pedone In F6 La forchetta In F6 Però tu a quel punto Gli mangi L'altro pedone E gli minacci La torre Quindi Come vuole lui C'è un senso Che dopo può mangiare L'alfiere Però noi Gli mangiamo La torre Esatto Esatto Sì 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 Se lui Mette in F6 Il problema Sarà Sarà il finale Come sempre Perché Non lo sappiamo fa Esatto Io non so Aprire e chiudere In mezzo Bene o male In mece Riesco a tristricare Un pochino Ormai Esatto Esatto Inizio e la fine Esatto E uguale Però mi gusta un sacco Cosa? E gioca insieme così Sì 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 È una figata È diverso proprio Anche a me Mi diverte Ecco qua Io andrò giù qua A mangiare Questo pedone qua In modo tale Che gli attacco Questo E vabbè Questo se Non glielo attacco Però Se vuole mangiare L'alfiere Che lo mangi Ma noi gli mangiamo La torre Esatto Poi adesso Ora comincia A raddoppiare Un pochino Eh sì Va bene Lui c'ha più pedoni De noi poi Ecco Perfetto Bene Ma questo è un buon Coglione Sono Però Non è affatto Una gran Una gran giocata No Poi adesso Qui io mangio Anche questo Questo Uno delle due Io lo mangi Gli mangi pure Io di solito Faccio così Io mangio Tutti i pezzi È il problema Il problema Principale Aspetta È matto Ma questo è un coglione No Non è matto Non è matto Se tu metti Se tu metti La regina In B8 Perché lui ritorna su E ritorna su C'era C'era Vabbè però Poi io mangiamo L'alfiere Esatto Sì 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 Facciamo così O sposta la regina O sposta l'alfiere E noi io Mangiamo l'alfiere Dalla regina Alla torre O sposta la torre O sposta l'alfiere E noi io mangiamo l'alfiere Esatto Va bene Adesso risposta Lo giù Te prego Te prego Che è matto Ah non è matto Però Ok Adesso mangia Mangia gli spedoni In B Eh ma è lui Che me lo chiede O me sbaglio È lui Che me lo sta chiedendo Ma se io faccio così No Sì Allora Vediamo un attimo Se io faccio così Ok Ok se lui sposta la torre Io mangio la torre Tanto lui dopo Non mi può mangiare No Se lui non sposta la torre Io faccio così È scacco E lui si sposta per forza E lui si sposta per forza qua Poi faccio così È matto Se poi risposta lo stava prima Giusto Sai che dovresti fare per fare questa cosa Se vuoi fare la cosa Se vuoi fare la storia Sì Mai Proviamo così Dopo è matto Se tu porti la torre in C È matto penso Se lui Se lui sposta un betone adesso De questi qua sotto Perfetto Adesso posto la torre in C7 Giusto? Sì E sovrebbe essere matto Dacci questi punti Mangia Mangia il penna Dai 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 Filippo Ah questo qui dice Che poi cogiù Anche viene a fare Anche viene a fare la recina Cioè Dura poco la recina Ma no Ma tanto è matto Se fa quella mossa è matto Quindi Eh infatti Infatti Sì sì infatti Che la mettiamo subito È protetto È protetto Cioè ma è matto a prescindere Ormai Devi solo Rinunciare Sì Se sposta la torre è uguale È uguale È un matto Un matto che Che arriva un po' dopo Dai Dai e Non dimmi Se me la vuoi fare Adesso lo scrivo Checkmate Non parla antipatico No dai Infatti Infatti Mi hanno fatto Una cosa D'autostima Giustamente Bravo bravo Così giù Così bisogna fare Attenzione Un solo spettatore Com'è possibile Visto siamo in due Esatto Però va bene La stessa Ma qui c'è C'è Sirrelu Ma è da Sirrelu È anche me Ma è da Sirrelu Attenzione Omicidio in diretta Anzi Moschicidio in diretta Moschicidio in diretta Niente Non riesco a ammazzarla Ma è due volte La chiappo Forse perché Non ti sento Faccio schifo Io te l'ho detto Su sto cazzo Dei calavroni L'altro giorno È stata una roba tremenda Cioè Continuava Per dire Sangue Capito Fra Non ti sento più Se stai parlando Fra non ti sento più Ah ok Ok Pensavo stessi parlando E non ti sentivo più No Dicevo del calavrone No Eh sì Che è stata Ma che vuole fare questo Dai Non dimmi Ma vuole fare aspettare 19 minuti così Ma la vuole perdere Per tempo dici? Eh può essere pure Ma no Ma no Ma anche perché Dopo un po' di tempo Ora ora Ok Bravi Bravi Diego E Francesco Due gravi errori Andiamo a vedere l'analisi Anche secondo me non nostri Sicuramente uno è il suo Che si ha fatto mangiare la cosa La regina Ah beh uno può essere il cavallo nostro E uno Eh infatti Uno è il cavallo nostro E uno è un cavallo in G3 La regina non lo dà come grave errore Vediamo 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 Mossa da libro Mossa da libro Questo è un grave errore Subito ho perso Praticamente Questo è un altro grave errore Questo è un altro grave errore Ah beh l'ho fatta dopo la mossa Dai Questa è una vittoria mancata Perché? Scusa si spostava qua Che? Che poteva fare? Se lo faccia la porchetta A un pedone Boh io non ci sto Mangiamo un pedone Eh ho capito Ma manco Ma manco perché c'era il re No no io dicevo l'altro pedone Ah ma nemmeno perché c'era il cavallo C'era il cavallo appunto appunto Boh vabbè Migliore Grave errore Migliore Ah questo è il suo Sì Questa è stata un'imprecisione Dovevo mangiare Boh Vabbè 3x3 Questa gli è piaciuta La migliore qual'era lì? Andà indietro Non voleva perderlo Ah ok Ok Mmm questa era una bella mossa cazzo Non l'abbiamo vista Che abbiamo visto? Questa era una bella mossa Ah vero? Qua Re E E l'alfiere No perché lo perdevamo Col forno dopo eh Era un 3x3 alla fine Sì lo perdevamo però Era una bella mossa dai Più che faccio Tanto lo perdiamo lo stesso Vedi adesso E noi gli mangiavamo l'alfiere lo stesso Quindi alla fine Non è che è cambiato tantissimo Più che altro che Sai che poteva essere Che facevi Cominciavi a mettere il rally sull'angolino E quando sta sull'angolino di solito Ok sì Questa è buona Questa è buona Questa è una bella mossa Scusa questa Ah perché dopo certo la perdevo Giusto Lui doveva portare giù l'alfiere Giustamente Invece spostare la torre Perché portando giù l'alfiere Perché così copriva l'altra torre certo Esatto Buona anche se la migliore qual era? Ah spinge la regina Vabbè Ma già Stavi facile Ottimo La migliore era portarlo in avanti E fa scacco Giustamente Che poi giustamente Fino a un certo punto Perché Ma infatti Infatti Ma Non lo capita Cioè non era male Però dopo Tornavi qua Oggi Quello che facevamo Dopo Eh infatti Questo è un grave errore Lui doveva portare indietro Eh certo Doveva mettere in comunicazione Le torri Eh certo È quello che gli infatti Dicevamo noi no? Questa è una vittoria Questa è una vittoria mancata Se a caso E' quello che abbiamo fatto Dopo Questo qui Però in quel caso Scusa No Perché se io Perché se lui metteva giù la torre Ah no Se lui metteva giù la torre Io mettevo su questo Boh Non lo so Mi pare un po' Una cazzata Questo che è una vittoria mancata Cioè era una vittoria mancata Ci stanno più variabili Perché Ci stanno più pezzi Esatto Invece Un errore grave Così Ok Perfetto Ok Boom Eh vabbè vabbè Siamo stati bravi In questa partita Siamo stati bravi Dai dobbiamo dirlo Bravi bravi Dai Ok E ora Andiamo A salutarci Dopo questa figura di merda live Sperando Esatto Sperando che non ci fosse nessuno Andiamo a salutarci con la bandiera dell'Italia Sventoliamo il tricolore Per dimenticarci di queste cose Lo sventoliamo un pochino Evviva evviva E andiamo a salutarci Io ringrazio Francesco Grazie Francesco Per essere stato qui Per avermi supportato Ringrazio Luca Che c'è stato E ci vediamo domani In qualche maniera O domani sera No No dicevo Mi dispiace che fino a una mezz'ora Siamo sempre tre Almeno Sì anche quattro Invece adesso Purtroppo Stiamo guardando Eh Invece adesso Dice che siamo solo in uno Anche se siamo in due Esatto esatto Va bene Non fa niente Va bene Non fa niente Non succede niente Va bene Via Allora Eh No dico forse perché la mia Mi fa che sta caricando Perché non ce la fa La connessione Ah Può darsi Può darsi È questo Eh sì sì Va bene Via Ti saluto Ciao Fra Ciao a tutti Ciao a tutti I un spettatori Cioè ciao Fra Ciao 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 a tutti Ciao Ciao a tutti Ciao a tutti